Ciao amici, ciao a tutti, come state? Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del pub dell'amico. Sara, ciao Curo Liri. Così? Ma al tradinimento? Eh no, sto andando in ordine, sto andando in ordine di finestrelle. Ciao comunque, ciao Sara. Ciao, ciao bello, ciao Dario. Vi sei presso Lara, solare, rigogliosa come al solito. Grazie a Pandachin, avanza. In realtà mi hai quasi spaventato perché ero qua rilassata, avevo dimenticato del link, quindi sei entrato da tutti i bonsalli. Sono spanata al volo. E poi diamo il benvenuto a Chirio. Ciao Chirio, bentornato. Ciao a tutti, ciao Dario, ciao Sara, ciao a tutti. Come al solito ci voleva la figa per fare tornare Chirio, beh quello diciamo che ormai è uno standard degli ospiti, va benissimo. E infatti un'altra persona che torna sempre con la figa, chi è? Mimone. Ciao Domenico. Incredibile ragazzi. Buonasera a tutti, amici miei, come state? Compagnami. Ciao, ciao Domenico. Ciao, ciao, ciao. Infine abbiamo, beh, la coppia che scoppia. Era da tanto tempo che non li vedevamo insieme qua al pub, ovvero Vic e Rob McQuack. Salve. Ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao ragazzi. Tra l'altro fra un quarto d'ora circa ci dovrebbe raggiungere anche Fossa e poi come ricorda a tutti, verso aprile, cioè diciamo a inizio aprile, saranno presenti fissi anche Sabaku e Saidonia. Penso di essere il primo nel mondo a staccare il tubo non solo a Sara ma anche a Saidonia e a Sabaku che lo hanno più grosso e lungo da tanto tempo. Il mio in realtà l'ho semplicemente anticipato perché ho attaccato la live all'una, quindi... Ah, ecco, 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 ora faccio una rapida introduzione e poi si va così a braccio. Non ci sono degli argomenti, è sempre lo stesso pub, solo che ho deciso di estrapolare quella parte di argomenti che spesso ritornava al pub, ovvero argomenti più personali, ovvero film, videogiochi, serie, e di collocarlo all'interno proprio di una cornice pub tutta dedicata a questi argomenti che, ripeto, risuonavano spesso tra le pareti del pub. E quindi ho detto, va, andiamo a braccio e vediamo che cazzo succede. E di che cosa vogliamo parlare? Oggi sono... questa settimana ne sono successe di cose perché è uscito già... Io ho aspettative, Dario, parliamo di Hogwarts Legacy anche, vero? Eh beh... Ah, cos'è quella fascia? Secondo me questo è un trigger warning. No, 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 parliamone. Allora, guarda, dico una cosa. Allora, sappiate che a me non interessa nulla di Harry Potter, cioè animali fantastici e come trovarli cicao sopra, da sempre. Vabbè, ma quello fa abbastanza defecare in generale. No, poterò essere... Quello un po' a tutti, però. Sì, ma quello fa defecare anche i fan. A me interessa meno. Sì, sì, ma poi Silente, Invoice Over, morto, che parla, perché l'attore e il doppiatore sono morti e l'hanno sostituito col giovane. Insomma, va anche un po' così. Sì, ah, c'è anche Lucone. Ciao, Lucchino. Ciao, 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 ciao. Oh Dio! Ciao Luca, ciao, 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 ciao. Salve. Che non era previsto, però oggi sono andato a infiltrarmi, perché sapete che ora Luca è diventato uno sportello per le ragazze, cioè le ragazze vanno lì e si confidano con Luca. È diventato l'amico gay, no? Ecco perché mi ha invitato. È diventato... Grave! Io volevo fare con me. No, ora mi sta invitando le fighe. Era una trafra. No, no, no. Lui è l'amico gay che poi però ti tradisce, non è gay e te lo mette in culo in tutti i sensi. Vabbè, comunque, a me dicevo di Harry Potter non interessa... si parlava di Hogwarts Legacy, Luca, ieri c'è stata la cosa. Ah, ho capito, ho capito. No, io sono etero, mi piacciono... No, ma non c'è nulla con Hogwarts Legacy. Sì, infatti non... Non è un gioco... Vogliamo che non essere etero. Cioè, si può giocare anche se sei etero, Hogwarts Legacy, almeno risulta così dalla presentazione di ieri. E a me non interessa nulla di Harry Potter, ho letto i libri, sono molto fighi, lo ammetto senza premi. I film per metà mi piacciono, per metà no, sono perfettamente... Mi fa piacere che comunque ti siano piaciuti i libri, dai, sono stati l'infanzia anche di molti di noi. I film normali, ecco, non è che mi abbiano fatto impazzire, diciamo che dal quinto in poi non li ho seguiti più con la stessa passione, e soprattutto per me i libri sono veramente belli e la trasposizione, diciamo, cinematografica non mi ha mai entusiasmato. Li hai visti al cinema o a casa? Quasi tutti al cinema, per la verità. Ma non ti hanno comunque emozionato? C'è neanche il primo? No, poi quando... Mi pare nel sei, nel sei... Io uso sempre quelle due scene, quando Silente casca dal palazzo e soprattutto quando c'è la Fenice, io penso di essermi... Ecco, lì ho sentito il cringe at litteram, cioè non... Se tipo... Poi c'è... Allora, nel libro la Fenice che arriva è una scena epica, no? Sì. Incredibile. No, è vero, è vero. Fanny non l'hanno fatta benissimo, sono d'accordo. No, ma Fanny è proprio fatta male, è vero. Oppure Silente che casca... Il CGI è bruttissimo. Basilisco, sì. Prima sì, era animatronica. No, è vero, faceva cagarissimo Fanny, cioè c'ha ragione per sta cosa. E poi ragazzi, la scena di Silente che casca a rallenti e ci sono già gli studenti pronti o le bacchette in mano che se cascasse su quella bacchetta si farebbe ancora più male della caduta stessa. Quella roba lì... Oltre a ammazzare gli studenti. Oltre a ammazzare tutti gli studenti. Però il primo, dai, il primo, con Enrique Vassalini in bus, il Quidditch, dai, almeno il primo ti avrà un po' emozionato al cinema, no? Sì, 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 il mio preferito rimane il terzo perché è quello più anarchico, secondo me, un po' più follo. Cuaron è il migliore. Ah, sì, è vero, di Cuaron, sì, sì, sì. Quello è... Mi pare c'era il bus che si strizzava a un certo punto. Sì, sì, è il terzo. Il nottetempo. Il nottetempo con l'arbre magique, con la testina parlante, cioè quelle cose che mi piacevano parecchie. E chi ha detto testoline? Quindi comunque dai, ne sai di Harry Potter, magari non ti fa impattire, però ne sai. Però sì, diciamo che io sono della generazione Harry Potter, cioè io ero proprio adolescente quando è venuto fuori il fenomeno di Harry Potter, anzi un po' più piccolo. E quindi sì... Mario, ma non è che ce l'hai con Harry Potter perché ha affossato la Disney? No, 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 ma non sono così fissato con... No, aspetta, in che senso? Questo è vero, questo è vero, però... No, aspetta, questo è vero. Non è per fare di mai, è semplicemente... No, per capire. Tocca a te, Mimmo, tocca a te. Tocca a te, assolutamente. No, vabbè, semplicemente... No, ma io non ho niente da dire, eh. Io ero quello che portava tutti i cuginetti piccoli al cinema. Andavamo a guardare Harry Potter, però chiaramente lì la Warner Bros ha praticamente distrutto in due la Disney. Atlantis, film nato, morto, purtroppo, a causa di quel grande, grande clamore che si faceva intorno ad Harry Potter. Per dieci anni si è più ripresa la Disney. Ascolta, posso dire karma? Si è dovuta comprare gli altri. Posso dire karma, Domè? Ma perché karma? Oddio, karma. Perché la... Il pianeta del tesoro è un bellissimo film, non poteva essere distrutto da Harry Potter. Ma è stupendo, sono d'accordo, ma tu sai anche che il pianeta del tesoro è venuto fuori praticamente quasi come un indie. Cioè, hanno dovuto fare carte false per fare il pianeta del tesoro e sono d'accordo che sia un filmone della Madonna, però sinceramente è karma. Per quanto io possa amare la Disney, la Disney mi ha chiuso la LucasArts. Quindi per me... Vabbè, però quello è un discorso più complesso. Mi ha copiato Kimba, dai. Eh, lo so, però è un po' karma. Vabbè, ma basta con questa... Kirio, madonna! Vi fai bestemmiare, eh? Allora... Ma tra l'altro è successo molto più il nostro. Dai, cos'è che dice il mio? No, Kirio si sveglia così la mattina. Allora, oggi parlerò di Kimba. Mario! Kimba, leone bianco. Grazie, Luca. No, sì, vabbè, ora andiamo avanti. Però a LucasArts diciamo che, secondo me, nell'attuale scena videoludica, per esempio, non funzionerebbe, perché sono avventure grafiche punto e clicca un po', secondo me, forse vetuste, non lo so. Sì, oh Dio, no. Dai, c'è ancora la sua fetta di appassionati. È vero, super di nicchia, però ci sono tante avventure, tipo Timberweed Park, sempre fatte da Garfield e da alcuni creatori di Monkey Island. Sì, 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 no, ma funzionano, sono un grande appassionato. Cioè, è una nicchia, ovviamente. È una nicchia, certo. Però, poi, dai, ti immagini su Twitch, col backseating che c'è, fare un'avventura grafica con quelli che ti dicono... No, guarda, io ne ho fatte tantissime e la gente è super rispettosa delle avventure grafiche. Guarda, ti giuro. È super rispettosa di te, Sara. No, 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 Dio. Non lo so, guarda, io ti posso dire che ho visto molto rispetto, in generale, per le avventure grafiche, perché solitamente chi segue quel genere sono appassionati, quindi non ti vanno a spoilerare, dai. Non sono così stronzi. Non lo so, ho delle mie giovani. Sai che secondo me sei molto ottimista ed è molto irrealistico, perché non è così. Oh, raga, sono nove anni che porto le avventure grafiche, non ho mai spaventato niente. Ma io infatti lo capisco, però anch'io, anch'io porto tante cose. Però tutti i giochi mi fanno back sitting, anche su Crash Bandicoot 4, che ce l'avevo in anteprima, hai mancato le casse. Non è ancora uscito il gioco, cazzo, come fanno a sapere? Tu hai malus dell'essere virale, Dario, purtroppo. Ma essere virale, dipende, dipende. Vabbè, comunque, parliamo di questo Hogwarts Legacy, perché a me è piaciuta la conferenza di ieri e sono molto attratto dal gioco. Oh, fa piacere. Sì, 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 tantissimo, perché sembra fatto veramente bene. Speriamo non sia una scammata tipo Watch Dogs o Cyberland. O Cyberpunk. Quello è la mia paura. Io avevo molta paura del fenomeno Cyberpunk, tantissima. Ma infatti, cioè, sono arrivata proprio, ci ho memato un po' su, però io davvero sono arrivata con zero aspettative. Però più guardavo, più era impossibile rimanere indifferenti. Dai, hanno fatto veramente un bel lavoro. Non lo so. No, 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 cioè, sembra talmente bello. Eh, lo so. Capito? Lo dicevano anche quelli in cia. Io sono fiducioso. Io parto ottimista, fiducioso, però lasciarti in un certo senso a ragione. Cazzo, sembra troppo tutto bello, capito? Eh, è vero. Luca, Luca, che rapporto hai con Harry Potter? Ecco. Cosa? No, no, è un bellissimo opera. Bellissimo opera. Bellissimo opera. Non sono molto esperto di Harry Potter, non conosco bene... Ok, ok, ok. Con l'italiano conosci bene. Conosco il... Forse conosce meglio Harry Potter che l'italiano. Ho letto quel libro lì da piccolo e Ermione fu la mia prima... Eh, beh. Crush. Eh, beh. Eh, vabbè, Emma è tanta roba. E' un po' di tutto. Eccolo forse. Oh, c'è la roba. Bello. Come è tirato. Ciao, amici. Oh, sì, è perfetto. Ciao, amici. E' stata la camicia più potente che abbia la vista indossata la ghiaccia. Boia. Anni 90, solletico proprio questa camicia. Ma questi capelli da Vladimir? Questi capelli un po' così. Ho provato a farli allungare, vediamo un po' che succede. Ma che bel pub, guarda che madonna, che bello. Allora, comunque... Kirio torna solo quando c'è la figa e io torno solo quando c'è Kirio. Oh, amore. Però mettimi a casa a Sara. Mettimi a casa a Sara. Sara, questa è karma, ha visto? Eh, sì, eh, sì. Va bene. Allora, Luca abbiamo capito che non ha un rapporto molto stretto con Harry Potter, ma ci sta nemmeno io. Nemmeno io, nemmeno io. Invece, Rob, te che sei sempre molto severo, molto puntuale con le cose che vedi, questo videogioco, questo Hogwarts Legacy, come ti sembra? A me è piaciuto da matti il trailer, però sono della generazione fregacazzi di Harry Potter. Nel senso che l'ho scoperto quando ero già adolescente, ho provato i libri e mi sono sentito pesantemente fuori target, quindi al secondo libro ho droppato, e ho visto i film. E ho la maledizione delle fidanzate, nel senso che ogni ragazzo mi diceva Harry Potter non ti piace perché non l'hai visto con me, quindi ho dovuto rivederli. Con questo tono di voce però. Sì, ho dovuto rivedere tutti cinque volte, ma pronto, non è mai scattata la magia. Ma quanto è più bello il BDSM invece di questa tortura, scusa? Vabbè, ho capito, ma ci possono essere tutte e due le cose, o le cose fuse insieme anche volendo. Come si fonderebbe il mondo BDSM al mondo di Harry Potter? Con la bacchetta si possono fare tante cose. Non ho capito se non gli piace BDSM o non gli piace Harry Potter. Scusami Sara, te che sei super esperta di Harry Potter, ci sono delle magie sessuali in Harry Potter? Allora, intanto non sono super esperta di Harry Potter, appassionata, dai. Scusami Sara, tu che sei super esperta di BDSM. Di BDSM. Magari. Beh, puoi fare acciopalle, non lo so, puoi fare acciopalle. Acciopalle. Per il ballbusting, tu dici? Ci sta. Puoi attirare cose a te, quindi anche persone, sì, lo fanno vedere anche nel trailer. Puoi fare anche un trailer, nel trailer c'è acciopalle. Acciopalle, sì. Ecco, invece sentiamo il vero critico. C'è davvero acciopalle. Cosa vuol dire acciopalle? Scusami. Ci sono i tizi che stanno tirando delle palle, fanno acciopalle. Ah, vabbè, io stavo lì, ecco sì, vabbè. Ma Victor sta parlando giustamente del ballbusting. Cioè, di mettiti un tacco 42, scoppi alle palle del tuo figlio. Scusami Sara, non è mica la stessa cosa. C'è agguamenti, se hai dei problemi. Vabbè, comunque sentiamo l'esperto, l'angolo dell'esperto. Chi sarebbe? No, te, vabbè, te sei l'unio pagato per parlare di video gioia, a differenza nostra. Quindi, insomma, facci sapere qual è la tua su questa conferenza. Allora, hanno fatto un event, un trailer in generale, insomma, uno state of play, secondo me impeccabile, proprio dal punto di vista dei ritmi, della spettacolarità. Cioè, quel gioco mostrato in quella maniera faceva rizzare, diciamo, acciopalle a tutti. Pipporitto Max. Pipporitto Max, davvero. Cioè, è stato proprio perfetto nei tempi della comunicazione, in quello che doveva raccontare. Era denso di contenuti, ma non soverchiante, con degli immaginari bellissimi, un sacco di spunti. Ha sollevato tante domande che sembrano bischerata, ma per un trailer, cioè, farti desiderare di sapere ancora di più in quello che è il primo passaggio comunicativo di un gioco, è esattamente il loro obiettivo. e poi, vabbè, insomma, è chiaro che è una cosa preliminare perché non si è vista l'interfaccia, senza averlo provato non si può dire nulla, però anche questa inquadratura molto aperta, molto scenica, che lascia spazio al gesto delle magie, alla spettacolarità proprio degli effetti speciali, per me, quello che si è visto ieri ha superato ampiamente le mie aspettative. Io mi aspettavo molto meno, devo dire la verità. No, più che altro hai ragione, c'è la telecamera a spalla, classica, però è più distante, capito, per farti vedere più cosa succede davanti a te. Questo è molto René Ferretti. Eh beh, sempre. No Ferretti, veniva così. Ma guarda che Masella mi via sempre per il culo, perché quando faccio le correzioni ai disegnatori per le carte, mando gli audio, intanto faccio a me stesso questi gesti come se il disegnatore potesse vedere, quindi figurate un po'. Volevo solo aggiungere che lo dico da, cioè, nel senso, non sono fan di Harry Potter, sono un moderato conoscitore di Harry Potter, ma tutt'altro che, cioè, come Rob, io non sono arrivato neanche al secondo libro, mi sono fermato al primo perché ero molto fuori target. Il film l'ho visti tutti, mi piace il Wizarding World, l'ho anche esplorato approfonditamente con alcuni giochi mobile, insomma, tipo il clone di Pokémon Go, perché mi avevano portato a fare un viaggio all'Universal Studio, quindi l'avevo esplorato un pochino, però ecco, non è che quando si nomina Harry Potter io ho le lesmani, anzi, tutt'altro, ecco. Io sono all'opposto, invece, perché ci sono cresciuto. La cosa bellissima della generazione che è cresciuta con Harry Potter è proprio il fatto che tu crescevi insieme ai personaggi, perché passava tutto il tempo, esatto, quindi per me è stato, cioè, fate conto che io l'ho finito che avevo 18 anni e lui ne aveva 17 nel libro, quindi più o meno non aveva lì, per cui per me è stato proprio qualcosa di bellissimo Harry Potter e non mi aspettavo granché da questo trailer, francamente, e invece, insomma, te l'hanno acchitata bene. Io spero che non sia una mezza scammata per davvero, perché effettivamente hai quell'effetto da dire è bello, ma forse è troppo, esatto, è troppo bello più che altro perché c'è veramente, è quello che un fan di Harry Potter avrebbe sempre voluto vedere, ma secondo me anche un non fan di Harry Potter vede questa cosa e fa, beh, però cazzo, perché comunque è una storia slegata di Harry Potter, è diventata nel 1890 e già questa è una cosa bella, l'unica cosa aspetta, 1890? 1800? Sì sì, fine 1800, sì sì, tutte le beghe con i vari personaggi, relazioni. Io ho capito 1800, vedi? Già è un'inforzione. perché teoricamente... È la cosa che affascina di più, la mitologia, la base di Harry Potter, cioè i primi maghi, i primi castigoni. L'unica cosa è che, cioè, non per trovare il pelo nell'uovo, però narrativamente ti dicono che c'è questa magia nascosta che hanno sempre negato anche i maghi e mi vengono a dire perché quando parlano dei maghi oscuri tipo Grindelwald, Voldemort, questa cosa non è mai stata cinta. Sembra una roba che deve distruggere il mondo magico ma non se n'è mai fatta parola. Però è carino il fatto ad esempio che per una volta al centro della storia c'è una rivolta dei Goblin, l'abbiamo sentito chi ha letto i libri, l'ha sentito nominare 180 volte queste minchia di rivolta dei Goblin e finalmente c'è una storia di Harry Potter con al centro una rivolta dei Goblin. Quindi ci sta. Per il resto sembra molto figo nel senso che l'idea di che puoi esplorare Hogwarts in quel modo e anche i dintorni a cavallo delle scope se vuoi con tutte quelle magie anche combattimenti a me non sono dispiaciuti per come li ha mostrati. Sembra molto figo. Il combat è un pelino rigido ma è rigido probabilmente perché sono maghi. Era difficile ma infatti avrei voluto vedere qualcosa. Cioè non hanno detto niente del combat system. No vabbè puoi fare le combo tra magie e lo speriamo bene. A questo livello cioè a questa altezza di tempo quando mancano beh nove mesi otto mesi otto mesi tu dici è ancora aggiustabile. Invece Caverna te? Harry Potter a me piace abbastanza poi sono cresciuto con mia sorella dentro casa che lo adorava quindi c'è casa sua è tipo tutto Harry Potter entri dentro è un villaggio del mondo di Harry Potter quindi per me parte della mia vita letteralmente ci sono cresciuto perché appunto portavo tutti i cuginetti al cinema a vederli mi rompevo un po' le palle qualche volta però altre volte era divertente se usciva il film bello insomma non ho mai letto i libri me è colpa ho visto solo i film mai letto i libri so che i libri dovrebbero essere migliori e peggiori ti piacerebbe secondo me eh Domenico probabilmente probabilmente sono anche belli ho letto soltanto le storie brevi eh lo immaginavo perché comunque hanno fatto dei casini vabbè ma immagino che alcuni casini siano derivanti da quello che non ha scritto all'inizio perché so che doveva essere tre libri poi ne ha fatti sette è un casino comunque il gioco il gioco mi sembra super interessante devo dire la verità cavernata mi pare un po' Dark Souls e i dungeon e i dungeon è un Dark Souls colorato diciamo così ma dai ma c'è le scope di cose che volano dai allora qualcosì allora in qualche dungeon un po' ce l'ho sentito poco poco però più colorato più barocchino via diciamo così è interessante che ci siano i villaggi quindi tu giri comunque sembra un open world si devono spostare anche con le scope ci sarà molto da navigare sarà interessante lo hanno definito first person action RPG open world io first person single player ok io so come ho detto Armasi oggi bisogna vedere poi se effettivamente sarà davvero open world oppure una roba furba la god of war cioè dei grossi tunneloni con una zona centrale ampia bisogna vedere cosa fanno però magari è open world cioè potrebbe essere interessante andare su tutte le guglia a me già mi sa un po' di scammata perché dice guarda le zone intorno a Hogwarts vedrai cambiare le stagioni come a dire è sempre la stessa zona però sai cambiamo soltanto i colori alle pareti ogni tanto magari in base alle missioni ma perché se tu avessi letto i libri che nemmeno io ho letto sapresti che la scansione dell'anno e se io avessi un copione davanti come te forse meglio ma non ce l'ho il copione per il pub ma non penso sapresti che la scansione dell'anno scolastico è fatta molto stagionale ma anche nei libri in qualcuno dei film si vede nel film è molto è molto così non ricordo non ricordo e credo che quella sia proprio tipo ti fai il primo trimestre poi switchi e diventa l'estate poi l'autunno e poi l'inverno beh figo dai così col cambiamento delle stagioni vedremo sarà bello e a proposito di Gothamites noi bisogna parlare assolutamente di The Batman perché so che a Mimmo a Mimmo non è piaciuto invece a me è piaciuto e anche a tante altre persone che sono aspetta aspetta perché io ho detto una cosa chiarissima mi è piaciuto tutto l'arco narrativo di Batman è perfetto come inizia e come finisce Batman tutto il resto striature di merda una dietro l'altra i personaggi non mi piacciono l'ambientazione non mi piace posso dire che c'è un'ora allora io l'ho visto a Fuerteventura alle Canarie ero da solo in sala praticamente lì hai visto sicuramente tutto un altro film sicuro allora ma l'hai visto da sobrio? sì sì quella sera lì era sobrio quella sera da appurare a me non è dispiaciuto come film secondo me c'ha alcune parti che sono molto molto ridondanti cioè anche tutta quella parte in cui per una casualità no per una casualità per una scelta veramente difficile da capire l'enigmista si scaglia contro un passato vecchio di 30 anni già dimenticato che non gli serve nemmeno per l'insurrezione popolare perché l'insurrezione popolare si fa sulla corruzione del momento non sulla corruzione che c'aveva che cazzo ne so Thomas Wayne 30 anni fa e tutta quella parte lì secondo me proprio non funziona è il tentativo di metterci oh occhiali spoiler è fossa stai attento è il tentativo secondo me di metterci un pochino di non di origin story ma di rapporto fra il personaggio e le sue origini cioè rileggere le figure che l'hanno ispirato però sì 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 ma è esattamente così ma stanno facendo lo stesso errore di Spider-Man dell'MCU non raccontiamo le origini facciamo tre film per raccontare le origini e ti farò vedere che faranno tre Batman per fare le origini di Batman arriviamo là ma qual è il problema no è che è una palla è una palla non puoi fare tre film per raccontare il personaggio basta tanto lo sanno tutti anche i vecchi non cugini di concetto dentiere ma non è così ma è così perché tanto le raccontano le origini non è vero che non le raccontano le raccontano qui hanno qui sono andati a scavare in una cosa interessante però cioè non mi sembra che abbiano perso tempo raccontato cose che già sapevi era completamente era completamente scisso da tutta la prima parte di quello che faceva l'enigmista cioè l'enigmista ha dei bersagli specifici adesso non entro nel dettaglio sono tutti molto coerenti poi ci mette dentro anche loro due perché perché sì perché così si dà fastidio in realtà no perché così ti possono introdurre cioè qua ti introducono anche secondo me delle basi per poter poi andare a fare in futuro la corte dei gufi parte tutto da una roba del genere che secondo me potrebbe essere il film conclusivo eh secondo me sì perché comunque qui ti vanno a grattare un po' la superficie sulle origini Wayne tra l'altro mi piace il fatto che abbiano adesso non voglio fare spoiler ricondotto ma a Marta Wayne a una certa cosa perché hanno preso una versione che c'è nei fumetti quella cosa quella cosa è molto bella il fatto delle famiglie quella è proprio cioè è proprio l'iceberg che ti porta poi alla corte dei gufi e questo secondo me è una cosa che non avevano mai fatto in questo modo quindi benvenga se lo fanno io avrei asciugato come dice Domenico avrei asciugato tante parti soprattutto nella parte centrale c'è eh Falcone eh quell'altro eh Falcone ancora però non è vera questa realtà è vera o è un'altra realtà ma come è vera no te lo giuro e si incattano un po' in quella cosa lì bisognava asciugare un po' Luca invece il rapporto con Batman al volo spiegaci mi piace con i vivistrelli pure Robert Pattinson veramente lo trovo un grandissimo attore perché ti piace come attore Luca se posso chiedere eh mi piace proprio che ha il modo che ha di farti sentire il personaggio che sta recitando in quel momento lui secondo me dove lo metti lo metti ti darà sempre il meglio quindi in che senso dove lo metti anche se te lo metti anche se te lo mette sono sicuro che anche in quel caso darebbe il meglio ma l'hai visto il film è un bel ragazzo un bell'uomo sì è un bel ragazzo no purtroppo ah non hai visto il film no non vado al cinema dalla pandemia proprio per imposizione sì 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 lo aspetto moltissimo questo film un po' è già uscito a tre settimane Luca lui lo aspetta in un video ah in un video in blu ray no in dvd ah in dvd con la plaza l'esperienza l'albergh sotto usa sotto il 4k non non lo guarderò va vabbè che devi flexare se c'è il televisorino è la tv 4k è Luca eccoci qua va bene Luca va bene un interrogatorio no chiedevo una domanda flexa i pollici del televisore quanti pollici c'è tanta l'avrai comprato lo saprai no sì certo te lo so certo che è 4k il televisore ma anch'io ce l'ho 4k ma ci mancherebbe no io no quindi chiedevo no ma nemmeno io comunque non importa no no non credo li vendano in full hd ancora onestamente no no proibizionismo se ti vedono vendere uno ti sparano di è rischioso cioè già a 400 euro prendi un led lcd che sta che è in 4k no no ma infatti è saggia dipende da quanto tempo hai il televisore magari esatto prima del 4k va bene ma io non ho nulla contro che altre visore in full hd non è che sono dei drogati non ho parole comunque esistono ancora i full hd e vendono ancora i blu ray normali cioè luca tranquilla ma anche i dvd cioè ma si è questo è un grande problema secondo me anche al cinema vengono anche al cinema io su questo sto con me ma per i poveri al cinema vengono proiettati i film in full hd ci sono pochissimi proiettori 4k in italia ma dipende ma luca 40.000 euro te credo ma poi dipende come ha girato il regista dipende se vabbè comunque è un po' complesso il discorso ma poi comunque è sicuramente complesso le macchine con cui viene girato qualsiasi film adesso è di qualità superiore al 4k già lo hobbit era in 5k il formato raw poi ovvio che la compressione per cinema può essere esportata in full hd perché magari il proiettore lì è in full hd però le qualità le materiali tecnici ci sono per poterlo fare io ti consiglio una petizione su change.org per far rinchiudere quelli che non hanno il 4k sei diventato il littler dei dischi vabbè a mia difesa io lo schermo del pc in 4k quindi mi accontento non sono arrabbiato si pubbliciscono il 4k al 2012 sono passati dieci anni cioè quello si veda meglio il film a casa mia per questo calcino ma lo sai perché Luca perché secondo me il pubblico come proprio percezione non ha percepito tanto il cambio il passaggio da dvd a blu ray cioè dalla cassetta al disco chiaramente c'è una differenza sostanziale anche proprio nei materiali nella forma cioè la gente ha trovato esatto ha trovato una cosa più compatta da un cd a un altro cd subito il sentimento del pubblico è ma cosa vuoi che cazzo cambi no in realtà cambia tantissimo perché blu ray comunque ti dà una dovrebbe almeno darti la sensazione che hai al cinema insomma in un certo senso no luca luca si è importante secondo me anche poi quella che è la tecnologia di illuminazione del televisore nel senso secondo me un oled sarebbe fondamentale o un micro però devi pensare anche al popolo ai proletari cioè sei diventato ma tu ce l'hai oled luca ce l'hai oled luca ma il tuo tv è IMAXNASHAD sei invece un QLED del QLED il QLED ti ha nemmeno risposto ti ha nemmeno risposto secondo me il QLED è piacevole allora il QLED se non avete questo è quella via di mezzo vediamo se si vede se non avete questo polsantino luca non vi rivolge la parola ecco la posa ecco la posa senza questo luca non vi rivolge la parola grazie tra il led e l'ole secondo me il QLED allo stato attuale è ancora un prodotto che non è né zuppa né pan bagnato ci troviamo in un cool de sac quindi tu non vuoi il QLED secondo me ci sono ancora troppe poche zone retroilluminate è assurdo che magari un ipad da 12.9 pollici con processore m1 oppure l'ultimo macbook pro da 16 pollici abbia più zone di retroilluminazione rispetto a un televisore da 70 pollici ok allo stato attuale quindi credo che non siamo ancora arrivati al punto che magari posso arrivare a istruire l'oled sei in un parcheggio arriva un uomo ti dice dai ma che cazzo stiamo parlando l'oled da donna santo ecco io semplicemente sceglierei l'oled anche se è vero che magari rischio che a livello organico si vada a decadere prima nel tempo questo è verissimo sicuramente è diventata una live di Galeazzi per le case più luminose è fondamentale ma per me che magari quando ho tempo di vedere la tv la vedo la sera e comunque è buio l'oled va benissimo non ho bisogno di 1500 nit me ne bastano tranquillamente cosa? io sono l'oled lo dico anch'io è una cultura fascinante anche perché poi crescono in maniera esponenziale appunto cosa cresce i funghi sulla televisione crescono cosa cresce la quantità di luce emessa tra 500 e 1000 nit è vero che senti la differenza le onde blutz per diventare ozaro super saian 4 più cresce che meno l'occhio ne percepisce dell'hdr che cosa ne pensi lo preferisci a 10 bit o va bene anche quello normale classico e soprattutto l'hdr è solo 10 bit quanti porti hdmi 2.1 secondo te devono esserci in un televisore moderno allora secondo me almeno una 2.1 comunque è difficile secondo me giocare con due console contemporaneamente quindi ne basta secondo me una di 2.1 certo è che se il televisore ne ha tre o quattro meglio non mi tiro indietro però a mio piacere il mio ne ha una e secondo me è sufficiente ne basta una ne basta una nel culed vabbè a parte queste cose no nell'oled a parte queste dead jokes di fossa mi chiedo più che altro Luca ma dove hai cioè come quando ti informi te su queste cose Luca ne sta un botto mi appassiona mi appassiona però Luca da grande appassionato di anime non va a vedere Batman ma va a vedere Belle di Osoda vero? oh parliamo di Belle certamente bisogna andare a vedere Belle cioè bisogna che non ci sia ancora andata ma da due anni come va dal cinema da due anni ecco appunto con questo film mi dicevano che è uscito ieri tipo sì sì tra l'altro incredibilmente non è un evento tipo tre giorni a 150 euro al biglietto dipende dipende in quale cinema no no attenzione ovvio proiezione alle due del pomeriggio canonica la maggior parte di cinema io sono in due fanno due giorni e due proiezioni magari alcuni cinema sì però tipo tipo gli eventi di Nexo sono proprio eventi che non possono stare cioè non stanno per più di due tre giorni qua invece sì 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 lo so è distribuito regolarmente quindi non è una cosa buona non è una cosa che capita spessissimo per i film anime che roba è piaciuto sto di Batman pensa che un processore 4k ce l'ha una parrocchia ma perché il proiettore ma poi la parrocchia come fai a sapere che una parrocchia ha il 4k frequentatore di parrocchia è assurda questa cosa ce l'ha la parrocchia e non ce l'ha il cinema roba ti ha garbato sto cazzo di The Batman prima che quell'altro si metta a parlare di microparticelle a me è piaciuto tantissimo ero una di quelle persone che non aveva hype perché negli ultimi anni Batman l'ha visto in tutte le salse e tanta gente ormai si ricorda solamente Affleck però televisivamente parlando è stato ovunque è stato nell'Haraverse in Gotham in Titans e ogni volta o impazziva e ammazzava gente o si esiliava l'hanno sempre trattato male quindi ultimamente ero un pochino stanco perché era ritornato a uccidere non mi è piaciuto come l'ha trattato Widow come l'ha trattato Snyder quindi aspettative sotto lo zero mi piace Matt Reeves come regista pochi film ma tutti belli questo l'ho trovato veramente veramente figo mi è piaciuto che tanto Catwoman quanto l'enigmista quanto Bruce avessero sostanzialmente tutti un rapporto conflittuale con i genitori con la figura paterna in particolar modo Torturro che si sta evolvendo in Castellitto io l'ho trovato un bel falcone penso che ed è vero è lui è vero è giocastellino grande narrativamente forse sì sarebbe potuto durare di meno però mi interessa se dicessi che mi è pesato perché mi è piaciuto il fatto che omaggiasse Prisoners Zodiac Seven l'ho trovato molto finceriano puro Seven anche un po' l'enigmista ma io comunque ragazzi a proposito di Torturro Rob io però io non ce la faccio più a vedere qualcosa su un Torturro io tutte le volte che vedo un film è un Torturro penso a Jesus che le capa la bowling è veramente difficile io ho realmente quel personaggio che io non riesco eppure è bravissimo un attore incredibile però minchia tutte le volte faccio la le capa poi fare lo stesso sorriso di Jesus uguale quando ridi in volta Bruce Wayne sembra cazzo Jesus è una cosa incredibile vabbè insomma Jesus è lui cioè io così aspetta dove viene Jesus? eh Sara stai scherzando no che sospitana no allora sempre della parrocchia questo è il tuo compito Sara Sara questo è il tuo compito il tuo compito che ne so guardare sotto la filmografia dei Cohen da oggi Sara è importante l'hai visto Sara ti hanno mai pisciato sul tappeto no no sì gatti sì da un tono all'ambino no i gatti no i gatti un gatto un po' troppo cresciuto diciamo no il grande le boschi Sara recuperati il grande le boschi prima di qualsiasi altra cosa segno subito lo sai che tu c'è una roba che mi hai consigliato l'ho recuperata no è vero hai recuperato soil no sanni hai recuperato sanni vero no ho recuperato quartieri lontani quartieri lontani bellissimo tra l'altro tutto berserk quindi oh la roba che mi consigliate l'ho messo recuperato brava Sara mi hai ricordato una cosa devo fare un appello oggi ho visto una storia di Francesco Cilurzo che ha recuperato berserk Cilurzo allora io capisco che hai preso la maximum perché hai fatto un errore va bene hai fatto un errore ma no 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 caverna non è solo quello il problema non ha preso solo quell'edizione sai cosa ha fatto ha messo nella libreria i manga no 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 non lo dire te lo giuro te lo giuro te lo giuro no li ha messi da destra verso sinistra Domenico vabbè c'è chi ci stampa i cofanetti in quel modo quindi voglio dire francesco 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 manco in Giappone fanno questa cazzata non esiste questa cosa in Giappone di mettere dal numero 20 al numero 1 al contrario no planet manga lo fa Dario ma non hai visto l'ultimo kirio non mi far dire cose che devo lavorarci no lo devi dire lo devi dire cazzo planet manga ma che cazzo fai non si fanno queste cose non sostenere i weeaboo di merda telefonatina da planet manga guarda Luca che sei mutato perché va a cambiare l'ordine dietro guarda lo so dietro la sua libreria anche la telecamera guarda da lui si sta dissociando i weeaboo è bellissimo che pensano che in Giappone li mettono così no ma non è vero mai è successo grazie Anna Bolena Alexander tutto a posto e biso e dove è davamaro rosario e salentino intanto Luca non si è arrivato ma sono tutti sfocati dietro non si vede questa cosa grazie a Slay ma lui ha invertito lo screen dietro semplicemente cioè tu hai manga al contrario quindi nello scaffale qualcuno Luca forse c'è dal contrario ancora no no l'ho sistemato prima che arrivasse grazie un nuovo fetish comunque Domenico che lancia a terra peluche con violenza vabbè ma l'ho già fatto ah si c'è un format di lui che lancia i peluche dove strappa i manga no quello no quello no quello proprio no aspetta quello no capiamo te la faccio te la faccio sei speciale ieri sono riuscito a scappare uno devi stare caldo con questo meme devi stare caldo grazie a tutti allora allora aspetta dov'è che recupero jesus no lo trovi nelle principali più grandi le boschi il grande le boschi basta che scrivi nella marocchia di luca big le boschi nelle più principali piattaforme di streaming online bravo diglio diglio comunque c'è da dire guarda Sara per chi non conosce il grande le boschi facciamo un po' di divulgazione che qui sono tutti fan penso il grande le boschi il grande le boschi è una commedia dei fratelli coni che non si fa più da una vita cioè una commedia possiamo dire grottesca grottesca allo stato puro tanto che a un certo punto i personaggi stessi della storia il protagonista stesso della storia si accorge di vivere in una storia grottesca e lo ammetta candidamente nella pellicola stessa sfondando secondo me un po' la quarta parete è una sorta di thriller dove viene rapita una tizia a causa di diciamo che è una un effetto domino di eventi che cresce sempre più fino a un'esplosione finale una concatenazione di eventi un effetto domino sempre più grottesco e surreale dove vengono coinvolti questi tre personaggi anzi due e mezzo contando doni folli sbagliati che non si sa come facciano a vivere in quel tipo di società come facciano a sopravvivere soprattutto il grande le boschi ovvero il drugo non si sa come faccia a sopravvivere in quella società dato che sembrano lavorare sembra non avere un guadagno fisso per fare la spesa e per fumare le canne eppure diventa l'eroe di questa storia l'eroe di questa piccola cittadina tra l'altro è stato tagliato in sceneggiatura questa è una piccola curiosità l'introito del grande le boschi praticamente i cohen volevano dargli una sorta di busta mensile che arrivava dai diritti dallo sfruttamento dei diritti del cubo di rubik praticamente lui era l'erede degli inventori del cubo di rubik e quindi prendeva il copyright da ogni cubo di rubik esattamente era carina come cosa però l'hanno tolta è più bello che non si sa come faccia a vivere senza lavorare insomma comunque è stato bellissimo un tizio in chat che ha scritto unico film bello del regista dei cohen certo del regista io penso che i cohen abbiano fatto solo film bello di recuperare è uno dei rari casi dove i registi in questione o i registi sceneggiatori in questione hanno fatto quasi come si chiama questa persona deve finire in una valle di lacrime deve finire in una valle qua non siamo nel Vietnam qua ci sono delle regole ci sono delle regole stai facendo morire tuo padre Larry stai facendo morire tuo padre Larry stai facendo morire tuo padre questo è il tuo compito Larry e comunque ecco questa è un'altra cosa figa Sara che ci sono 3000 citazioni dentro cioè ogni battuta iconica i dialoghi sono scritti da Dio non ha senso quel film non ha senso vabbè scusatemi stanno facendo qualcos'altro ora ora i coen si sono sciolti con fratelli sempre all'opera si sono sciolti ma Joe Coen ha appena fatto attenzione questo non ha bene grazie Luca confonde con le Wachowski secondo me ma sono quelli di non è un paese per vecchi esattamente oddio ho capito sono molto bravi loro però non è un paese per vecchi mi fa mega senso perché mi spaventa da morire il protagonista stanno facendo Macbeth su Apple TV è vero e vero solo Joel ma l'avete visto Macbeth no io no io non ancora bellissimo porca puttana comunque no non è un paese per vecchi ti fa paura il protagonista l'assassino Javier Bardem porca miseria lui è bravissimo cioè lui veramente come fa il pazzo no ma lo fa da dio c'è proprio uno che così dal nulla lo vedi che si gira ti ammazza senza un preavviso con quei capelli tu la scegli tanto è tutta la vita sì però ho capito è così randomica la cosa che ti giuro mi fa paura è tutta la vita solo che non lo sapevi solo che non lo sapevi puoi vincere tutto scegli mamma mia è una cosa incredibile quel film però questa settimana è uscito possiamo dire capolavoro capolavoro del cinema americano che finalmente torna con il suo quarto capitolo sfondando tutto ovvero Jackass forever impossibile è incredibile quel film io sono rimasto a bocca aperta più di me o si sparano direttamente prendono una pistola e si sparano hanno raggiunto il limite umano per cui uno possa sopravvivere a qualcosa sono quelli che si lanciano tipo sui cactus fanno quelle cose assurde la cosa più voglio sapere oggi 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 veramente no ma di Jackass me ne avevate già parlato mi ricordo in un altro pub ma non credo sia roba si mettono anche le macchinette nel retto eh ma il favore non è roba guarderei con piacere allora Jackass forever non l'ho visto la cosa più assurda che fanno allora ti dico il mio preferito è la scultura con le api sul cazzo di Steve no no c'è Steve nudo allora c'è Steve allora c'è Steve nudo si vede anche nel trailer no 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 allora c'è Steve completamente nudo con tutti i vestiti e il cameraman vestito da ape cioè la classica ape con le strisce perfette c'è Steve nudo con tutte le api libere e a un certo punto si annidano mettono la regina sul cazzo di Steve tutte le api si annidano sul cazzo e loro fanno una scultura che pende dal cazzo di Steve ma è come se è come se scusami creato un cazzo più grande sulla forma di quello no non è safe gli hanno punto il cazzo alle palle in una maniera incredibile è safe ragazzi ma cioè c'è gente che se lo fa con la barba non avete mai visto le comprensioni ho capito ma sul cazzo alle palle ho capito ma sul cazzo alle palle non è che ti punge la faccia mi sembra di me sì ma il cazzo era dottor soluto cioè era allora io mi sono seduta in un alveare su un alveare posso dirci Sara facciamo un posto indietro come hai fatto e dove eh no ero a scuola stavo scavalcando c'era uno steccato e c'era l'alveare stavi scappando da scuola no stavo facendo olio cuore stavo facendo la minchiona e ho staccato un alveare che era sotto lo steccato che mi ha devastato praticamente la mano e il ginocchio madonna perché saltando l'ho staccato merita a fare olio cuore però sono sopravvissuta e anzi ti dico un giorno di un po' di gonfiore ma ho capito Sara però sì lo so capisco che sul cazzo sia diverso no 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 a meno che tu non fossi particolare a scuola non è che giravi il culo di fuori cioè ti sei seduta a pantaloni no no ma no era estate avevo i pantaloncini cioè la primavera era contento era contento l'alveare no no e vabbè insomma e no Dario è un'esperienza anche per l'alveare no 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 è che secondo me quella che mi ha veramente fatto male è la sfida quella con la conchiglia mamma no lui allora Eren fa delle cose in questo film ma anche quella con Grizzly senza senso lì tremava stava per venire infatti cioè hanno liberato un Grizzly gli hanno messo il sermone nelle mutande e il mio nelle mutande gli hanno liberato un Grizzly nel volto lui incatenato alla sedia cioè ma di che cosa stiamo parlando oppure vogliamo parlare dell'opening dell'intro con cui presentano il film allora calcola fossa questo c'è un mini set tipo Kaiju movie come si faceva negli anni 60 cioè quelli trash e a un certo punto arriva un mostro un pupazzone di gomma piuma e te fai vabbè hanno voluto prendere per il culo hanno fatto il pupazzone di gomma piuma a un certo punto dezoomano e si vede che il set è un mini set ma il mostro è il cazzo di uno dei Jackals e hanno fatto e c'è praticamente il cazzo che vaga per la città e i loro piccinini che lo combattono cioè questo è l'intro del film cioè avevano anche a disposizione ricordiamolo 56 litri guarda Yusaku a parte questo intro qua che è l'inizio del film tutto quello che ho detto il grizzly le api è tutto nel trailer quindi non mi rompete il cazzo seguo i vostri consigli ma questo passo no eh no non ce la posso fare a guardare sta roba dai io sto male dai allora eravamo io Nanni Maze e Agnese al cinema si era morti si rideva come più palle e cazzo in questo film penso che in un porno Moana Puzzi c'è veramente delle osse tremende ma Moana è Oceania stessa cosa lei sì sì ma poi Luca vuoi fare il finto tonto con me che ormai sei pappa e ciccio con Nasca avrai visto più culi e fighe in questi periodi via a Milano che Dio Buono in tutta la sua vita che ti curai vogliamo dire che per merda di Luca non invita mai e Maseo con lui e Maseo con lui cosa ha detto il signor Fossetti può ripetere hai sentito benissimo no aspetta un attimo ripeto subito aspetta un attimo no in realtà non è vero che hai la due vaso ti si stava parlando sopra vai Fossa vaffanculo che non inviti mai quando sei con Nasca sublime poiché non vuoi condividere non invito hai invitato anche te tu non sei venuto Dario io sono di te la prima cosa che gli ho chiesto Luca ma io sto a Ponte d'Era ma di asaparli io sto nelle Marche ma no quando vado a Nasca sei a Milano non sei venuto tu ti hai invitato e non sei venuto eh no io lavoro giovedì è old school eh anch'io ho detto va bene amen si va ma fai che fa una live a settimana ma che cazzo dici eri lì per la figa eri in merito la figa ogni giorno ma che ogni giorno eri attaccata alla pupa di Michel Puttini come ogni giorno della tua vita faina questa è menzogna è menzogna allora si apre Youtube un attimo viro dall'argomento nerd si apre Youtube è un cazzo un patrimonio unesco di clip di Mangaka Michel Puttini fa ingelosire Mangaka Mangaka fa ingelosire Michel Puttini Lucilla si ingelosisce per Michel per colpa di Mangaka Mangaka guarda il culo di Michel Puttini punto interrogativo e tutti giù a cliccare come merde dì di no io non clicco l'ho già vissuto in quelle cose diventavano incredibile il flex proprio finale comunque Luca ti hai mai guardato i giacass ti impressionavano perché te sei uno molto impressionante no io vedevo i spot su MTV e poi cambiavo canale quando c'erano però mi ricordo mi ricordo mi ricordo quello della mano in faccia quelle cose lì quello della mano in faccia quando c'è quello di giacass che è ah la manona la manona sì la manona sì 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 ah vabbè ma quello è tipo made of the Banzai quello è tranquillo l'ho visto quello con l'aereo con l'engine dell'aereo bello quello che passa via loro che corrono verso l'aereo bello quello lì ti invece hai avuto un rapporto sì fossa simbiontico io sì per esempio con giacass sono cresciuto proprio con quello era l'epoca di MTV quindi era veramente inevitabile ragazzi cioè era un pezzettino della cultura adolescenziale di quell'epoca ma qual è che lo davano durante l'anime night c'è quel periodo lì no sì anche prima sì sì era dal 2000 era stato 97-98 più o meno 2002 esattamente vent'anni primi anni 2000 primi anni 2000 non so come io l'abbia schivato allora vabbè tra l'altro a me era un particolare a me fa ridere che sia stato creato in parte anche da Spike Jonze che infatti compare nel film ogni tanto sì 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 ma loro facevano parte di quella cultura post hip hop mi passino il termine i fan dell'hip hop cioè quella cultura che veniva dal fenomeno skate surf i graffiti cioè loro si vestivano sempre con le scarpone con la suola piatta da skater indossavano sempre il vestito un po' così insomma era molto interessante erano nati sulle riviste hip hop sulle riviste molti di loro erano skater sì alcuni sì punk rock bravi sì o pop punk anche perché no erano punk prima del post punk erano punk pop punk secondo me era più pop tipo green day era un po' quell'outfit lì erano veramente interessanti a me ha fashion anche per quello ora sono dei vecchi che pigliano le cornate da torio in volto ma sono vecchi solo nel corpo non nello spirito no lo spirito è resto quello cioè qualcosa fa di fantastico sì a te è piaciuto però Vic perché è difficile analizzare un film del genere come film cioè a te è piaciuto come film sì sì esatto è come film devi vederlo come un documentario perverso cioè per me siamo un gradino appena precedente è un gradino sotto la mutilazione genitale cioè quasi una snap movie in certi momenti no è vero cioè io allora nei film precedenti questa fissazione morbosa per le palle non c'è non c'è io ho fatto è sviluppata dopo Vic pogo stick dico solo questo pogo stick sì è quello quello di cui ti parlavo prima io ti giuro ho fatto metà film sai quando beh ma è gore ma la cosa posso capire sono gli uomini questa cosa qua perché ovviamente se non hai le palle non lo puoi capire quella sensazione di una mano fredda che ti afferra i coglioni quando vedi qualcuno che si fa male alle palle che ti arriva nello stomaco è proprio una sensazione tutta maschile io l'ho avuta per tutto il film ed è bellissimo cioè è bellissimo ma sì io vi giuro c'è stato e sono andato a vederlo da solo perché la svet non poteva quella sera e c'era un po' di altra gente in sala perché non ha le palle no hai fatti per quello non poteva vietato vietato l'entrata esatto però il discorso è che lì poi si è fatto comunità con spettatori che non si conoscevano cioè a un certo punto sono seduti vicini perché era talmente è una cosa talmente adolescenziale cioè se tu vai a vedere Jackass 4 Jackass Forever e non hai mai visto Jackass in vita tua probabilmente dici ma che è sta merda è una questione che ci siamo cresciuti cioè lo guardavo quando ero piccolissimo quindi cioè per me è proprio l'adolescenza che ritorna capito quindi per i nostalgici quindi dici ma non lo so un po' sì però i nuovi Jackass funzionano tanto secondo me erano veramente fighi io ero scelto perché erano fan loro cioè non è che fa ora non l'ho visto però l'idea cioè non mi sembra che faccia leva solo sull'effetto nostalgia perché non va a recuperare quella mitologia di quegli anni lì quell'estetica è un po' sì eh sì però funziona anche a priori anche perché forse devo dire la verità dentro ci sono tanti stunt che amplificano comunque citano degli stunt vecchi cioè che avevano fatto tipo la smutandata ti ricordi quando lui si buttava si impiccava ecco qui l'hanno fatta in una maniera ok vabbè poi c'è roba nuova come il volo di Icaro che è una cosa incredibile cioè hanno citato poi c'è certo tipo Zack il mega Uber però quello che voglio dire è se quello stunt lì la nuova smutandata funziona anche se tu non conosci la vecchia sì certo ma scherzi funziona però secondo me lo va a vedere più che altro chi lo conosce già come brand però c'è anche da dire una cosa cioè tipo io ho notato che hanno proprio esasperato con successo alcune cose che avevano fatto i vecchi giacass cioè ad esempio usare il corpo di Preston Lacey come un generatore di cose orribili ma anche quello di Zack quello nuovo che è il doppio di Preston Lacey anche lui in effetti sì 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 a me piace perché ridi per una volta di pancia ma in un certo senso i giacass ti giustificano a ridere di pancia piuttosto di Christian De Sica che offende i suoi badanti filippini ecco veramente perché lì ti senti una merda quando ridi e li chiama in tutti i modi però quando vedi Giacas che si veramente auto-infliggo delle punizioni assurde però molto epica a livello cinematografico perché c'è il volo di Icaro è una cosa incredibile sei contento sei contento Luca è incazzato nero perché è lontano da culo Lili è molto lontano da culo Lili mettiti vicini scusa Dario senza fare spoiler quella del serpente in cui spengo la luce nella stanza io ero in apnea non dico niente non spoiler attenzione no 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 spoiler c'è un serpente e ti spengo la luce eh no 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 non è assolutamente spoiler credi non è così non è spoiler non ho detta vaga apposta è una candy è più una candy anzi non tanto è con dove finisce il serpente forse non è così è una candy fino ad un certo punto perché poi ci sono delle cose un po' strane però vabbè e te Rob l'hai visto c'è Casquattro no l'ultimo non l'ho visto anch'io sono cresciuto con quelli vecchi devo dire che quando li ho visti all'epoca ridevo di gusto e in età adulta invece riguardare i film non mi ha lasciato lo stesso effetto di quando ero più piccolo ci sta quindi sono un po' intimorito perché so che questo da quanto l'ho detto dovrebbe essere anche l'ultimo una sorta di atto finale e l'idea di guardare e poi magari vedere percepire una sorta di decadentismo no 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 guarda ti assicuro Rob no cioè ti assicuro no 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 empatizzi con gente che è cosciente di star concludendo qualcosa e sta salutando con affetto i loro vecchi fan con delle ultime cose ancora più pesanti delle vecchie e allora ti dico solo questa cosa qua c'è nel trailer Johnny Knoxville in tutto il film è molto tranquillo partecipa ogni tanto però è più l'orchestratore è sempre stato il capo a un certo punto Johnny Knoxville decide di ripristinare l'ordine come il drugo in arancia meccanica decide di ripristinare l'equilibrio e fa una cosa fa una cosa e dice il drugo no il drugo di rigrandere boschi vabbè lascia fare che qui un tutto non mi ci fico è una questione di semantica dopo parliamo sì 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 dopo ne parliamo e dice a un certo punto adesso parlo io come il cerbero adesso parlo io e a un certo punto infatti la gente fa è mentre allora io Victor la scena in cui lui è tutto bardato che lo portano via e dice è venuta bene senza fare spoiler ma è venuta bene cioè oppure quando quando dice è nella io lo devo dire mutatemi lo devo dire Fossa Johnny Knoxville mutatemi è nell'ambulanza con una costola rotta il polso rotto e non mi ricordo cosa rotto che dice è evidente che il il toro non abbia apprezzato i miei trucchi di magia ma che cazzo dici sei rotto in due ma cosa ma poi va tutto spezzato che lo carica in un'ambulanza che dovrà fare tre mesi di Jesse e cioè al regista fa ma è venuta bene la ripresa ma cosa te ne frega cioè va va lì ha rischiato veramente veramente grosso cioè c'è il toro che lo ribatte fa un triplo salto mortale per aria cioè ma qui siamo veramente ora riattivate l'audio questo infatti c'è i giacassi giovani fanno eh d'altronde è lui il capo ho capito ma io mi ricordo già quando era quando era cascato dalla macchinetta del mini golf che aveva preso una cignata era sempre lui quella vecchia si era spaccato in due si che si ribartano mi dispiace per Bam Marghera che ha perso il cervello a me invece la più grande soddisfazione secondo me è che mi è piaciuto un sacco è la questione di Steve cioè vederlo così fresco così pulito si è disintossicato lui si è disintossicato ora mangia solo frutta e verdura non beve non fuma si è rifatto completamente i denti perché si gli era bruciati con la cocaina 3 o 4 volte no un po' se l'hai spaccato un po' se l'hai bruciato comunque si 3 o 4 volte si è rifatto completamente la dentatura completamente perché scusami i denti cosa non c'entrano i denti con la cocaina no no perché la purezza di Sara no no la cocaina no non capisco il collegamento tra denti e cocaina perché cocaina e roina hanno l'effetto di succhiarti fondamentalmente il calcio ti si sbricciano i denti dopo un po' e anche le ossa i tossicodipendenti purtroppo si rompono più spesso le ossa perché sono porosi stiamo parlando Sara di uno che per far divertire il proprio gruppo arrostiva su un fuoco i topi e li mangiava davanti a loro no era non vivi però insomma comunque i topi morti però cotti cotti ragazzi le pantegane proprio lui si è cocaina lui ha fatto qualsiasi cosa poi per fortuna si è ripulito infatti quando ho visto che si era ripulito vegetariano adesso proprio lindo mi si è aperto il cuore ho detto che è bello era uno che si metteva in un bagno chimico e si faceva strapazzare quella merda dovunque no che schifo è la scena più disgustosa della storia quella secondo me ah si sniffava sniffava il wasabi cioè Sara sniffava il wasabi e poi vomitava per la strada due tre posti non è infrequente vedere cameraman durante lo sketch che si fermavano per vomitare in un angolo si si questa è una cosa abbastanza tipica questo è stivò cioè faceva le interviste strafatto dove spaccava tavolini appiedate non gliene fregava nulla cioè nulla era veramente un tornado perché quando si è fatto tatuare sulla jeep mentre prendeva i dossi ma il tatuaggio quello è il primo ma il tatuaggio più bello è quello che c'ha sulla schiena che è se stesso così lui ha se stesso Sara ha una gigantografia di se stesso così sulla schiena completamente così fammela vedere no la devo vedere no Stivò è mio padre assoluto cioè per me è la mia vita Stivò è la mia esistenza però il mio preferito era Bam Marghera purtroppo ha fatto una finaccia lui è bipolare è rovinato ma con il loro è morto nel set o esterno? no uno è morto uno è morto fuori per un incidente stradale sì Ryan Dunn è morto è uno dei motivi per cui non facevano quasi più nulla gli ha distrutti Bam Marghera è andato fuori di testa sì per lui che era il suo miglior amico anche Bam Marghera è un pazzo quello che gli ha fatto ai genitori io l'avrei veramente se fosse mio padre mi fado di Bam Marghera giuro ho male alle 5 devo svegliarmi per andare a lavorare quando gli metteva gli amplificatori in camera e poi attaccava la chitarra elettrica gli ha messo un alligatore in casa cioè ragazzi stiamo parlando è per me la mia vita io farei quello tutto il giorno però purtroppo non è andata così mi rompo se mi allena Danny Lazarin per mezz'ora figuriamoci se faccio le leose però i tatuaggi sono le cose migliori che hanno fatto ho guardato quello sulla schiena è molto figo quello sulla schiena faceva parte ma è mega realistico poi sì sì ma faceva parte di una cosa che si era fatta per il primo film Sara ti voglio chiedere una cosa ma te che sei così candida pure sempre tutta a modino perfetta addio madonna ma io mi chiedo ma in adolescenza non hai visto qualcosa di un po' più sporco cioè una serie un personaggio cos'è la Tesla che state ballando Tesla ma io mi accodavo a Luca era un po' silent disco queste cose qua ma in realtà sì e cos'è che hai mai visto Rotten? voi che cosa? su Rotten ci sei mai stata Rotten no arriva la roba lì no 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 neanche a me non diamo con nessuno non esiste più non esiste più grazie Ivax grazie chiuso vabbè c'è il 4chan sì forse è bene Rotten era Rotten era una collezione di video in cui la gente cioè di video schifosi per qualche motivo o perché la gente si faceva veramente male o perché c'entravano diciamo deiezioni di ogni tipo e c'era proprio la roba più malata cioè no ma roba così no in marcia beh il massimo ti dico avevo le figurine che mia mamma me le buttava via quelle degli sgorbions ma dai ma vabbè ma le sgorbions sono arte sono queste le cose alternative brutte ma di un film che guardavi di nascosto una serie merdosa brutta che guardavi di nascosto no vabbè i videogiochi che giocavo di nascosto cosa guardavi cosa giocavi di nascosto eh Irland 69 Lula the Sexy Empire Le Isure Sweet Lenny Magna Cloud cioè se parliamo di videogiochi si se parliamo di altre cose di me questa racconta ci sarà ragazzi sono una videogiocatrice cioè io quella roba guardavo che cos'è Lula spiegalo al grande Lula the Sexy Empire praticamente era un simulatore non un simulatore era una sorta di gestionale in cui tu eri regista e dovevi fare dei film porno e in pratica dovevi assoldare l'attore l'attrice dovevi scegliere il set fare la scena porno e poi fare prendere i soldi e diventavi diventavi un regista figo se riuscivi effettivamente a sviluppare bene i film e poi vabbè i laser sweet Larry li ho giocati tutti erano bellissimi li amo quelli no la domanda di Rob secondo me vai Rob secondo me Lula the Sexy Empire lo trovate a 5,49 euro su GOG chi si ricorda ed è un pezzo di storia ero all'elementari tipo cioè te gioavi a queste cose all'elementari sì ok eh beh se fai il calcolo era roba è molto vecchia Lula the Sexy Empire è vecchissimo dai lo facevo fammi pensare allora ne parlavano in giochi per il mio computer io mi ero incuriosita e ma voi l'avete mai giocato invece Lula the Sexy Empire no no la persona è toscana una persona lo sta giocando esatto la sta vivendo e noi siamo solamente dei pallidi ma scusate l'esurso di Larry voi non lo giocavate tipo da bambini dai certo certo però mi girava il cazzo di non arrivare mai al punto se ti ricordi Sara anche Lula eccetera non si arrivava mai a qualcosa di veramente esplicito ma era tutto no no il Lula si vedeva no il Lula si vedeva il Larry non si vedeva il Larry non concludevi mai perché lui non concludeva mai solo in Magna Cum Laude mi ricordo ci sono quattro finali e in uno lui conclude si sbatte le due gemelle le bionde quello lì in uno conclude è solo con le gemelle mi sembra ma vogliamo mettere con i giochi in Thai i giochi in Thai si vedeva tutto dio madonna potevi fare qualsiasi cosa i più potenti della terra butta dentro Frozen c'è gaiolo giochi in Thai o meno esperienza allora io ti dico se vuoi Sara ti posso consigliare un gioco che puoi giocare di nascosto da donna però adulta beh ma adesso non me ne frega niente lo gioco alla luce del sole vabbè a posto pensavo magari ti nascondi no su Twitch non si può io non è che posso cioè mi si farebbe un po' strano gioare a un gioco ma me li mandano anche su K-mailer mi ha mandato diverse chi di giochi però custom made 3D secondo me super top però con controller quello sexy bitch zero perché no provare per credere è interessante provi sperimenti ma cos'era ma la playboy mansion no è una cosa dove gestisci delle cose poi magari puoi replicare anche RL se trovi ispirazione insomma accetti tutto provare per credere a Olgen poverino Frozen sempre lì che arriva Sabaco e fa è l'open world del ring è qualcosa di maestoso perché se ci pensate poi arrivano Reddits e Sinergo e poi io mi sono divertito tantissimo con questo gioco perché effettivamente è qualcosa che ha un ritmo incredibile e povero Frozen sempre così che poverino non può dire nulla perché non vede l'ora di tirarsi i segoni sull'FPS e sui giochi pornografici e non ne parlano mai Frozen vieni qua questa casa aspetta a te sempre o se no Reddits e Sinergo parlate di giochi porno perché lui ha tutte le strumentazioni c'ha il controller che si infila nell'uccello quello lì è pazzo vi prego è vero ma non è una cazzata Forza ci ha fatto anche dei video perché ridi è vero ma cioè si infila che vuol dire c'è il controller che non è un uccello ma infatti io pensavo nel uccello è vero è vero c'è il controller che si ficca nell'uccello per darti l'esperienza maggiore è l'uccello che ficchi dentro è l'uccello che si ficca dentro è il videogioco che viene da te non te che entri nel videogioco in questo caso è una cazzo di flash stai immaginando l'uretra sfondata eh vabbè ci sta raga è un mercato ha fatto un video enorme non so come come l'hanno fatta tipo a eliminarlo da youtube per sempre è riuscito a fare un video dove spiega come funziona il controllo non so come si chiama questo siluro di silicone che si applica all'uccello e gli hanno tolto manco credo la monetizzazione cerca un altro video bellissimo devo dire molto profissionali e invece Luca qual è stata perché tanto lo so Luca lo so qual è stata la cosa più sporca in ambito nerd in ambito manga anime videogiochi che hai fatto alle spalle dei tuoi genitori o dei tuoi no puoi farmi un esempio come mi sa che non ha capito non con i tuoi genitori intendi che loro non ti hanno visto farlo qualcosa di cui ti vergognavi un manga una cosa questa è una cosa particolare ho seriamente capito qualcosa no questa è la cosa più assurda praticamente andavo in prima superiore sta studiando sta studiando andavo in prima superiore scusa con il chubby lip e mi mettevo la sveglia verso le tre e mezzo di notte quando sicuramente insomma i miei stavano dormendo appena sono alla sveglia ero pronto rigido mi recavo al pc che era rimasto acceso ovviamente e iniziavo a schierare i miei opliti sui cariam pronto ad invadere le altre città ah qui non è una storia con i porno anche io mi aspettavo tipo sai dopo la proiezione delle undici cioè la cosa più sporca è che hai giocato il gioco alle spalle dei tuoi scusa i cariam di notte ma poi gli opliti eh sì mai scioppato ambrosia ma non gliene frega un caso se hai scioppato a nessuno se hai scioppato o meno qualcosa su questa roba luca in tutto questo perché eri rigido hai cliccato perché la notte gli altri non giocavano ormai tiltata Sara completamente no io non so cosa è successo ho preso la scorsa raga c'è la cuffia che mi ha dato la scorsa giuro cioè noi ci aspettavamo qualcosa di un po' più friccicoroso allora io ho paura a chiedere ma dato che ha parlato caverna no 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 allora immagino l'opposto di Luca proprio il diavolo e l'acqua santa proprio no vabbè allora c'è stato questa è doppia in realtà perché doppia alle spalle ricordo che andavamo io e mio cugino a comprare tutti i fiori di loto storie di bambole queste cose qua no eh oh per forza eh beh è fondamentale e c'era questa storia incredibile di ramamezzo dove c'erano Akane e Nabichi insieme niente shampoo ahia no la mia preferita è di tutti la preferita direi ma non è detto non è detto non è detto abbastanza c'era sta bella storiella di loro due io ricordo ricordo proprio così nitidamente che avevo tutti questi fumetti porno dentro la pasqualina non so se vi ricordate la casetta di pasqua invece del pasqualone c'era la pasqualina era il pasqualone per ragazzine sostanzialmente anche per i ragazzini ma perché stavano lì perché li mettevi lì perché era un posto dove no ma ci tenevo i giocattoli e quindi potevo nascondere i fumetti sotto i giocattoli ah ok 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 era questo il senso una mia cucinetta una volta si era infiltrata dentro la mia stanza no ha aperto la pasqualina la pasqualina perché pensava di trovarci solo i giocattoli ha tirato fuori i giocattoli c'erano i fumetti sotto non è riuscita a vedere nulla perché io prontamente ho chiuso la pasqualina con le sue mani dentro e lei a piangere tutta la serata si era fatta male bella questa quindi tremendo no è stato tremendo perché poi dopo li hai spostati perché che hai fatto loro e i miei genitori entravano dentro la stanza e io stavo così tutto ansioso perché potevano vedere dentro la pasqualina per la prima volta senza i giocattoli allora stavo pieno d'ansia mentre la bambina piangeva comunque l'ho presa e l'ho data in braccio ho messo tutti i giocattoli dentro chiuso e poi ho spostato i fumetti dalla pasqualina nelle librerie in alto voi avevate difficoltà a comprare certo certo materiale io lo buttavo dentro a roba normale a me l'edicolante mi ha sempre venduto tutto anche a me a me non faceva problemi tutti zitti Sara che cosa intendi per tutto ti dico playings perché compravano a te ti carbavano lentai è vero me l'avevo scordata me l'avevi detto in uno dei primi pub è vero mi devo aggiornare no vabbè ma ascolta non ne avevo molti però qualche numero ce l'avevo e a me non mi ha mai fatto problemi non mi ha mai detto niente io prendevo che ne so guida pokemon playings mettevo lì io me li vendeva io sono convinto Sara che la maggior parte delle volte i edicolanti non so neanche cosa cazzo vendessero può essere effettivamente no è vero ora non mi ricordo bene specialmente la roba in tie eccolo qui è arrivato subito fiero eccolo là parlando di porno ciao kalel ciao ciao belli buona sera ciao perdo sempre l'occasione perdo sempre l'occasione di venire con la canottiera cazzo hai visto ma io se te prenderei una camicia e ne farei una canottiera per mantenere lo stile è esatto interessante ma kalel ecco proprio dato che sei arrivato adesso dato che te sei il massimo esperto di harry potter eccetera noi abbiamo già parlato dell'argomento però voglio sapere in tuo parere su hogwarts legacy cosa ne pensi senza segarti per favore eh cazzo fermato così questo coito interrotto mi dà un po' fastidio sono molto arrapato e onestamente non so come come duro nove mesi fino a dicembre quando gaspita uscirà perché guardi dico io sto cosa sto progetto lo seguo da quando l'hanno licato quattro anni fa quindi finalmente vedere qualcosa di concreto e vedere così tanta roba mi ha proprio mi ha caricato la scimmia oltre ogni limite Kalel ma se poi ma se poi è brutto vabbè della serie allora già per le cose che mi hanno mostrato in questo trailer se mi lasci anche guarda solo esplorare l'hogwarts e tutto il resto che hanno creato io sono contento si guarda voglio dire poi molte cose hanno fatto un po' storcere il naso anche a me però dico sempre hanno nove mesi vediamo come come la sistemano è assicurante vederti gasato no ma io sono c'è veramente veramente tanto gasato soprattutto per tutte le robe che hanno tirato hai fatto hai fatto anche il quiz su wizarding world sai che casata sei qual è il tuo patronus obbligatorio ovviamente serpe verde che palle che palle che normi normi banale totale normi famma mia questo è proprio quello che direbbero gli altri che sono inferiori esatto grifondoro assolutamente ma come grifondoro ma come grifondoro grifondoro è da super mega normi allora a me capita sempre che mi fa scegliere tra grifondoro corvo nero grifondoro e tassorosso ciao calel ciao calel ben arrivato tasso rosso e basta grifondoro corvo nero corvo nero lo accetto grazie perché siete edgy si parlava di cose di cose videogiochi cartoni film vietati che si vedevano comunque si trovavano ah sì sì lo so stavo ascoltando e te invece è entrato per quello è entrato per sono entrato per l'holocaust sono entrato perché ce l'ha scritto il pub del nerd schifoso e puzzolente quindi mi sentivo proprio evocato per forza di cose per forza di cose a voglia sì allora io ero uno che passavo un sacco di tempo sui giochi in flash game minchia playgrounds te lo ricordi che devi svestire le fighe conquistare le fighe c'erano tanti quei proto dating sim molto molto abbozzati c'era uno che mi piaceva un sacco ero uscito il discorso un po' di tempo fa in live che infatti sono andato a rivisitarlo che era una specie di a metà tra un'avventura grafica per dire così tra questo tizio tipo solita storia nerd ligato che però viene bullizzato dal figo della scuola e mentre in biblioteca trova questo libro magico insieme alla figa di turno dove tu c'erano vari ingredienti e combinandoli in base alle combinazioni che facevi la figa si trasformava in varie cose tipo la mazzone per dire così o la tizia furri o che ne so ed era anche cioè era anche interattivo perché dovevi trovare quante più fighe combinazioni diverse e alcune combinazioni avevano anche il come dire la possibilità di scopartele quindi era veramente tanta tanta roba devo dire va bene va bene quindi vabbè Luca e poi gli altri ma Caverna l'ho già raccontato racconto sempre più bannabile e inquietante Bic no no ma fatti di cose cose che ho fatto alle spalle ma io in realtà non tante perché vabbè tipo io gli entelli tenevo tranquillamente come letture sulla bilancia al fianco del cesso e nessuno li notava quindi io andavo tranquillo però però una volta mi era successa questa cosa che praticamente si era incastrata nel videoregistratore una videocassetta che era un porno era merda noi siamo alcuni di noi siamo di quella generazione per cui c'era la videocassetta che faceva il giro della classe o della scuola cioè non so se a voi capitava c'era uno che registrava o del paese la videocassetta porno sì esatto mi eravamo passati il videoregistratore un po' vecchio si era incastrata e mio padre l'aveva io ho detto vabbè la lascio lì faccio domani mio padre l'ha disincastrata ha messo play e io arrivo in salotto con mio padre e mia madre che guardano tutti in salto di questo porno mia madre che si dice sei un animale non è mia ma non è mia cioè non è mai non è mai tua mai mai in nessuna maniera a me non ho potuto dire un cazzo perché era di mio padre ma te ecco era di tuo padre ho trovato quella di papà con cicciolina ebbè siamo con cicciolina tra l'altro sì in l'armadio e Vic ma te ti sei mai fatto la sega che ora vive a Roma cioè nel senso la sega sul film quello di autore però erotico pornografico certamente sì l'impero dei sensi anche oppure ecco questi sì grandi classiche e non c'è la sega sul postal market no ma quella però non è molto nerd ci stiamo allontanando adesso no allora se vogliamo parlare no beh però tipo ad esempio io ma il postal market c'aveva l'arma a doppio taglio se giravi pagina nel momento sbagliato beccavi Jerry Scott era finita è vero magari potevo anche avvicinare perché in seconda serata davano un sacco di anime bellissimi tra cui Pretty Cure e un sacco di altra roba e dovevi per forza aspettare quell'orario e quindi poi ti beccavi anche il resto eh sì però c'era c'era io mi ricordo che tipo ogni tanto mi passavano questi porno che erano quelli sempre quelli italiani alle 90 doppiati malissimo tremendi tremendi però bello perché erano tipo una volta li facevano erano tipo proprio con la trama e adesso questa cosa si è un po' persa perché ormai ci sono le clip su Pornhub e quelle robe lì però era bello perché tipo io ero appassionato di Selen mia unica dea e c'erano tutti i film che erano parodie di film classici tipo Cuore di Pietra Oliver Twist però sempre con lei come protagonista ed era una cosa bellissima l'angelo azzurro sì 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 io avevo una cosa allora una cosa che giocava molto a mio favore perché essendo io rumeno mio papà aveva tipo il digitale terrestre che copriva tutta la zona est europea con un sacco di calabine io il calabine ti giuro ti giuro ho sudato freddo perché ho detto essendo rumeno mio padre aveva il registratore e ho detto rubato però ho detto speriamo di rubare da noi si rubare no si piratava soltanto come dei figli di puttana mio padre aveva questo digitale terrestre che ovviamente aveva un sacco ma veramente veramente anche tanti canali porno dedicati cioè 24 ore su 24 non è anche che dovevi svegliarti alle 3 del mattino e mio padre di solito li bloccava ovviamente ma ogni tanto quando faceva il resetto cambiava modello magari ci metteva un po' a cambiarli e io ne approfittavo di questa cosa e praticamente mi ero memorizzato tutti i canali su cui trasmettevano queste cose e quando se mi se ne uscivano ne approfittavo per andare a vedere ma ero in realtà abbastanza era ancora preadolescente ma precubertà perché avrò avuto tipo 9-10 anni quindi neanche c'era masturbazione e ancora neanche sapevo cosa fosse era proprio più una curiosità caserica sì sì un po' cultibile e una volta però ho fatto una cazzata ma perché non sapevo per dire così che io giustamente per non farvi beccare quando sentivo che ne so la chiave nella top o che stavano tornando i miei cambiavo canale e mettevo un canale normale il problema di quel digitale è che sul telecomando se tu premevi il tasto exit tornavi in automatico sull'ultimo canale visitato e quindi mio padre è arrivato si è messo dalla televisione preme exit e torna su un'inculata e dice ma perché è successo e guardano me perché ovviamente sarei stato io io no ma non lo so io ma neanche sapevo ci fossero queste cose sono spaccafighe poi invece quando è arrivato internet in casa io letteralmente la prima cosa che ho fatto con internet è stato andare www.sex.com che rimasto perché non sapevo cosa fosse la cronologia ma che cazzo è poi c'è la cosa più generica del mondo recursore di xmx no ma ti sto parlando io che vado su internet per la prima volta a nove anni cioè tu cosa io non sapevo cosa fosse un motore di ricerca o roba del genere sapevo come funzionavano i siti quindi ho detto boh cerco quello che mi interessa ed è rimasto che poi il sito esisteva ovviamente figurati secondo me scusami ma io devo scoprire che cosa c'è adesso Rob Rob mi dici la tua esperienza cercando di entrare un po' in tema perché Kalele ha parlato di tutto tranne che di Bello vai visto che tu stavi parlando di cinema d'autore io mi sento di consigliare a voi al pubblico ah si è levato anche l'occhiale la donna lupo con Loredana Cannata perché c'è una scena che penso potrà soddisfarmi parecchio ovviamente anche io ho dato di postal market e penso di aver speso le paghette della nonna per comprare forse l'unico gioco in tie uscito in italiano che è Viper B16 Viper B16 e di che cosa trattava Viper B16 non l'ho mai sentito ma qui qui si va è un italiano addirittura si e tieni conto che nella prima edizione poi bandita ci fu addirittura un doppiaggio italiano e questo rendeva la cosa particolarmente interessante perché si erano approcciati al media come se fosse un anime ma allo stesso tempo dovevano trattare col media pornografico quindi provavano a mantenere i suffissi tipici gli onorifici giapponesi ma allo stesso tempo volevano picchiare duro con l'adattamento come se fosse un pornazzo live action quindi il gioco non aveva una direzione artistica e anche se volevi lasciarti stunnare dalle immagini dicevi non so se devo eccitarmi o devo ridere e questo secondo me era il grande problema al punto che feci il refund e lo comprai in inglese ok ma ci puoi fare un genito non ho mai sentito questa storia mai sentito non ricordo questo però ti dirò di più fossa tra i primi turni di doppiaggio che ho fatto io ho doppiato due film porno io li voglio io li voglio comprare io voglio assolutamente fare un porno faccio un appello alla chat il titolo del film non lo ricordo perché era in cirillico ma le battute erano ovviamente in italiano erano film dell'est Europa quindi forse Kalel mi può aiutare ok va bene e comunque in questi film no parola perché perché essendo rumeno suo padre era in quei film certo c'è il concepimento di Kalel doppiato bellissimo un porno tv veri te tv veri te tv veri te tv veri te una Dario delle cose più imbarazzanti della mia vita perché era tra i primissimi turni quando ti chiamano a doppiare non sai che cosa ti fanno doppiare sei lì in sala d'aspetto inizi a sentire i gemi ti dici sarà un film d'amore quando poi entri in sala l'incisione imbarazzo nell'imbarazzo non c'è un direttore ma una direttrice o no e mi dice ma tu il piacere lo devi sentire te stai a rapare no ma che cazzo di direttrice di doppiaggio era una che fa le cose per bene perché il voice actor è sempre un attore quindi deve partecipare aspetta ma tu sei della scuola che fai tutto col fiato o devi correre dentro la stanza e quindi se dovevi sentire l'amore hai palpato eh no non credo non è il meteo lo Stanislavski non si può fare così però vi dico devo purtroppo deludervi perché le sporcature quindi i gemiti e gli affanni non si doppiavano ma credo che sia così anche oggi quindi sentivi tipo voce rude poi improvvisamente ma il tuo il tuo personaggio cosa faceva allora in un film ero praticamente un avvocato e ricordo nitidamente questa battuta che posso tranquillamente dire signora io capisco la sua situazione ma penso che troveremo il modo di accordarci classicissimo e lì arriva la mazzata grazie eh sì bello però bello interessante come l'avvocato Costa è una bella esperienza è vero l'avvocato Duroni nei media diciamo appunto fumetti animazione eccetera qual è stata la scinti parto da caverna qual è stata la caverna un po' spoiler no non è ma sentite non è spoiler qual è stata la scintilla che ti ha detto ecco esiste anche l'animazione esistono anche i manga esistono anche i fumetti che possono toccare delle sfere che non pensavo si potessero toccare con questi media penso quando ero ragazzino di essere rimasto completamente folgorato dalle cose che si facevano sull'anime night allora ero cresciuto con le reti regionali un po' come tutti quindi i miei ricordi sono fatti di pastello robottoni e scene incredibili della Tatsunoko io penso tutti gli eroi della Tatsunoko li so a memoria mamma mia i Time Bokan ma anche il fantastico mondo di Paul tanto per andare fuori te Mute King Kya Shan Polimar tutti quanti quelli erano davvero pazzeschi predatori del tempo ma quanti erano troppi e tutti belli fra l'altro ed ero cresciuto con quella roba là però era una dimensione da bambino non era ancora l'amore vero penso che l'amore vero l'ho cominciato a provare con la Robotone di MTV Anime Night ah si ok si perché prima di MTV Anime Night fecero questo grande test di una domenica intera fatta solo di anime pazzi completamente io vidi Neo Ganga e Gasaraki che erano un po' mistici e un po' di robottoni e quella roba là piena di mix di culture insieme perché c'erano tanti personaggi con tatuaggi sul corpo e che guidavano i robottoni e succedevano cose strane e c'era magari anche Blue Submarine number six l'incontro tra due specie che non si capiscono era esattamente come io e gli anime che non ci capiamo e quando li ho visti ho detto questa è la mia roba questa è la roba che mi rappresenta perché non mi capivo con tanta altra gente però sentivo di capire quella roba là io sono più normi di te Domenico e ti dico che mi è successo con Dragon Ball anche a me cioè quando ho visto C18 quando ho visto Bulma io ero impietrito perché ho detto come possono dei personaggi animati dei personaggi che non esistono eccitarmi è possibile perché quando ne parlavo con i miei amici mi prendevano per il culo perché mi dicevano eh ma sono cattoni bla 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 eppure ho scoperto poi il vaso di Pandora perché quando l'ho aperto ho visto che effettivamente i giapponesi ci giocano molto cioè prima ti ingannano con le cose semi erotiche o erotiche e poi ti fanno vedere che c'è un mercato molto più esplicito beh Bulma aveva delle scene un pochino nella prima saga sì nella prima sì le mutandine con il dragon sharon cioè ce n'erano ma non solo c'è proprio Goku che sfila le mutandine di Bulma per ammoggiarsi sulla figa c'erano un sacco di scene su Bulma erano minorenni peraltro tutti però quindi però sì 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 Vic invece molto migliore per me è stata shampoo di ramma ripeto shampoo di ramma impossibile capire shampoo era bellissimo io perché ho abituato diciamo che l'approccio con gli animi un po' più adulti avveniva solitamente sulle reti private perché vedevi quelli sai dei media di oscar e poi è impazzito vedete quelle di oscar così poi beccavi per sbaglio un anime sulla reti privata e quando io vi di ramma la prima volta io non capivo perché mi sentivo così ringalluzzito però ogni volta che compariva shampoo mi si tipo mi si azzerava la salivazione però l'approccio con il manga più adulti per me è quello per eccellenza che non è sessuale ma era quello con canilguerriero perché era tutto sbagliato era violentissimo rispetto a quello che ho detto era violentissimo e anche la sigla era cantata era bellissima ma era cantata di merda aveva l'audio distorto in alcuni punti e sembrava tipo una roba quasi piratata e io la prima volta che vi dicevo ma esistono anche queste robe qua e quindi secondo me la cosa di shampoo di ramma era su antenna 3 mi ricordo che era la scena in cui usciva dalla vasca da bagno e si metteva subito l'asciugamano ma si intravedeva mamma mia si intravedeva sempre tutto in ramma io pensai oh porca ho detto no non sapevo neanche perché ero piccolo però le pulsioni ce le hai anche quando eri più piccolo tipo 9 anni no poi diciamo che era abbastanza cioè era molto allusivo ramma dai sì però ho capito perché poi cioè con questo asciugamano con le bocce in gola e io mi ricordo tanto mia madre mi trovava incantato e dicevo cosa stai guardando niente come nella pubblicità di mtv che il ragazzo guarda il porno che stai guardando no niente cambi canale mtv voi siete tutti molto giovani l'mtv anime night c'era anche golden boy o mi ricordo male su era golden boy vero sì sì non ho ricordi sconati ma ricordi benissimo infatti io io in seguito aspetta un attimo forse poi ti lascio la parola io in seguito per tutta la vita quest'idea finché non ho trovato Agnese e Agnese è l'anime real cioè proprio e quindi sono rimasto felice di questa cosa mi sono fermato prego Fossa tocca a te no dice quindi voi siete tutti molto giovani e a me è successo con occhi di gatto bello però quali delle tre vabbè Luca ma sei ingestibile vabbè Scila dai dimmi Scila forza Scila ovviamente ovviamente è Scila la milfona Luca Luca aspetta un po' anche un po' anche con la mu però la mu era un po' troppo esplicita cioè preferivo la cosa un po' è che schifo la giovaniglia quel vedo non vedo Luca allora rispondi seriamente o vengo nelle marche tra l'altro così completamente sfatto entro in casa nel tuo condominio con la macchina stessa ti sfondo la porta l'ingresso dello sfondo spiegami c'è stato un momento nella tua vita così e io lo so che c'è stato perché anche con le carte Yugi vuoi sempre vedere la maga nera le fighe delle carte Yugi dimmi se c'è stato un momento in cui il tuo erotismo real ha incontrato l'erotismo fake della cultura giapponese rispondimi e sinceramente ti punirò molto molto breve sì e la risposta potrà magari un po' sconcertarti in quanto è un personaggio che appare veramente per pochissimo tempo Naruto femmina ci sta è una bella gnocca effettivamente ci sta ci sta è la differenza mia che ho detto la sirena di San Marin San Bersix aveva i codoni biondi vero sì sì codoni è una bella gnocca fa la tecnica della trasformazione nel primo momento però Luca allora Luca ti posso fare una domanda più specifica poi passo a Rob a parte Rob ha già in parte risposto tecnicamente però volevo capire da Luca allora se ti trovassi Naruto femmina no? che vuole donarti il suo frutto proibito nel consumare un atto sessuale un coito con lui perché è un lui che si trasforma in una donna lo faresti o non lo faresti perché comunque si parla di fare all'amore con un uomo trasformato da donna sì ma pur sempre con un uomo nello spirito cosa faresti? nello spirito mi troverei a far l'amore con la volpe a nove code Luca questa è una domanda da Paraculi questa è una risposta risposta a Paraculi sì o no? personalmente mi limiterei come il buon maestro giraio Kakashi ad ammirare con tanta beltà però l'atto sessuale no no l'ammirazione ma spero a me mi importerebbe una bella serie infatti ma che ti frega alla fregna che ti frega che è un uomo in realtà alla fregna no? infatti l'ammirazione come giraio e Kakashi dammi ragione vabbè Luca è così stasera è trascendentale oggi è metafisio stasera stasera sì esatto ma piuttosto riflettiamo su una cosa dimmi dimmi trasliamo questo discorso su Ramma quando diventa donna ma è la stessa cosa scusate ok mi sta bene ma inseminandola no aspetta un momento ce la siamo fatta tutti aspetta un momento dobbiamo capire ragazzi ma le tette di Lady Isabel beh ora non c'entrano niente 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 no ok un po' c'entra ma se inseminassimo Ramma donna e lei nel frattempo poi si ritrasformasse diventando uomo uomo con la pancia no non caderebbe nulla perché perderebbe è un preg esatto è un preg perché perdesse perché si ritrasformasse forma eh ma basta è come vincere all'enalotto che senso non ha detto una cosa sbagliata non ha detto una cosa sbagliata è importante è una cosa fondamentale cos'è un preg l'utero ogni volta che tu la parla lem preg sarebbe il maschio male pregnant ah ok è una sottocategoria degli entai ah esiste proprio una categoria degli entai ma che pensa volgerita ci stanno avanti da un mese un po' particolare è tutto complesso però grazie di averci posto questo problema etico che per fortuna non si sostanzia mai nella realtà grazie a dio anche perché sarebbe troppo e purtroppo fino a un certo punto Rob invece cosa sempre tornando alla domanda originale se te lo ricordi sì sì sono le devo tornare indietro nel tempo ma ricordo sono le serie animate di Italia 1 sono stati due personaggi nel mistero della pietra azzurra Rebecca perché mi piaceva tantissimo il suo trucco pesante i capelli rossi il rossetto e questa tutta attillata quindi iniziava a dire mmm e poi il personaggio che invece mi ha stonnato di più fu Madoka Sabrina di Quasimeggia Johnny perché ero abituata agli show dove c'erano tutte queste ragazze carine dolci questa fumava stava per i cazzi suoi non aveva problemi ad alzare le mani e questo aveva un po' e poi Orange Road era un po' un tipo quei giochi che abbiamo nominato prima cioè vai a provarci con la ragazza vai a provarci con la ragazza a determinate abitudini a determinati interessi vi far leva su quegli interessi per conquistare esatto dating sim questa mi aveva totalmente distrutto l'immagine che da bambino preadolescente avevo delle bambine delle ragazzine che si vestivano in un determinato modo che avevano un determinato interesse e ho detto quindi le ragazze possono essere anche così e mi piace sta cosa quindi così cioè scusate ma in chat è comparso un messaggio che è tipo della vita che dice che dice a Rob garbano i puttanoni vabbè abbastanza schietto diretto però insomma vabbè però non irrealistico e Sara invece? ma allora se lasciamo stare il discorso videogiochi forse con i manga di Katsura dio madonna con Shadow Lady che ho ancora tra l'altro Shadow Lady videogirlai dove obiettivamente hai letteralmente sempre senza magliere Gisela andava in giro proprio ma scusa i migliori culi di sempre sì sono pienamente d'accordo mamma mia come disegna i culi lui scusa cioè ma te dovresti fare cioè per te dovrebbe essere ma infatti non ha senso perché lei poi dice che non mi garba la fica io veramente posso essere la vita che ha mai detto questa cosa siamo un corrispettivo maschile Sara hai detto ti stavamo chiedendo hai sempre detto sostenuto io ho tutte le dossier che ti ha acceso diciamo le prime animosità ma non è vero ma io ho sempre detto che mi accita di più il corpo femminile l'ho sempre detto non so da dove è uscita sta cosa ti hai detto ma come non è vero hai detto non posso ripetere ho detto che sono etero assolutamente sono etero però il corpo femminile è citante che cazzo di senso ha questa frase spiega non lo so ti dico quello che è però ti dico ha senso pienamente senso per me masakatsu katsura è stato sì 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 ma forse è una forma è una forma di curiosità ma che curiosità anche te è semplice trovo il corpo femminile molto più sensuale di quello maschile per me è molto più sexy mi piace però sei etero però sei etero sono etero sì mi piacciono i maschi però mi accitano le donne ti rendi conto del paradosso? no no non c'è nessun paradosso palese sostanziale tesoro aspetta che mi guardo sta fregna su facebook da me è buona vai quello che è sessualmente eccitante è separato da quello che quella che è la come si può dire l'attrazione sessuale no però scusa se è etero no infatti non ho capito se è una cosa etero allora Sara fermo esatto sì ma no se è etero allora non ho mai trovato una donna in real life che mi eccitaste te la trovo io ma personaggi di anime entai ok sì può aver senso così te la trovo io 5 secondi ci metto no non ce la fai perché non c'è mai nessuno guarda Sara è proprio sbagliato dirmi queste cose è proprio sbagliato dirmi queste frasi basta è una sfida è sfiata ma io ti dico che è così e io ho sfiato perché mi sono sempre innamorata solo di ragazzi però non ti devi innamorare io non sono innamorato di panetti e se io non mi innamoro io non faccio niente io lo voglio panetti ma non sono innamorato di panetti e a me se io non sono innamorata a me frega un cazzo quindi sei come Luca è un discorso che può funzionare come Luca no semplicemente si no si chiama demisessuale non so come si chiama però per avere un rapporto sessuale con una persona devi essere coinvolta emotivata esatto devo essere coinvolta emotivamente quindi ti posso dire trovo eccitante il corpo femminile ma non mi sono mai innamorata di una ragazza la potresti anche utilizzare come un piccolo utensile nel senso puoi convolgerlo come un piccolo no? va bene comunque Masakatsukatsura grande maestro dei culi grande mio padre assolutamente ok Vick con lo sguardo ha detto un po' di cose senza dire niente che cosa ho detto? scusa no 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 non ho detto niente no 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 che mi si sparano gli occhi quando toco gli occhiali lo sa lo sa lo sa mi ha fatto abbastanza niente e Calello invece vabbè Calello abbiamo vabbè Chad si sa ma allora io diciamo che l'ho questo Sexual Awakening l'ho avuto più con l'animazione occidentale Sexual Awakening Sexual Awakening certo certo l'ho avuto più con me l'animazione occidentale lui c'ha il Sexual Awakening vabbè penso che proprio una delle prime cose che abbia risvegliato qualcosa in me sia stata Akida in Atlantis perché comunque c'è la scena in cui lei entra in acqua e proprio volutamente sessualizzata quindi ha voglia mentre invece dal lato per dire così videoludico che ancora mi ricordo Tomb Raider Underworld che cominciava tipo il primo livello cominciava con lei che era sulla barca in bikini andava in sott'acqua quindi ho detto ma cosa Underworld dovevi partire dal primo Tomb Raider che aveva le forme tagliate con l'accetta era quello il bello si aggrappava sulla poligonale e tu le facevi fare la come si chiama la verticale mentre lei salì si arrampicava per una roba lì che non era solo lei che faceva la verticale però Fossa finale Tomb Raider 2 sempre pixeloso lei sotto la doccia che intima il giocatore di andarsene quella 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 è stata è la mia sega vintage da sempre bene 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 certo no no ma ha senso ha perfettamente senso invece Chirione per concludere io come il buon Rob Madoka Yokava di Orange Road è stato il mio primo amore anime era diversa da tutte le altre che avevo visto fino all'epoca Madoka sarebbe Sabrina giusto si era ribelle c'aveva uno spirito forte era fica effettivamente è molto fica e poi invece in campo manga sicuramente anche io videogirlai mamma mia bello più che hai però mi garbava la ragazza di cui era innamorato Yok ah sì non mi ricordo il nome Moemi forse Moemi si era Moemi la morettina che poi era identica a Yori era uguale a Yori di Ys gli sfuggiva e quindi questa cosa era eccitante capito anche Ys mi ha stimolato molto perché anche lì c'erano delle belle ragazze e Yori Yoshi Zuki madonna bellissima lei era veramente un mondo incredibile i giapponesi ci hanno sempre inculato ci hanno inculato sul fronte action inculato sul fronte pop e inculato anche sul fronte sessuale ce lo insegna One Piece che è il manga più venduto del mondo non solo per i misteri ecco questo no è sicuro eccoci qua e caldo il fan service oppure mi infastidisce no non è che mi infastidisca il fan service però diciamo quando è un po' troppo palese un po' troppo paventato mi infastidisce se no gli ha domandato anche la figlia di sei anni ha detto papà ma a te piacciono le tette mi sembra anche palese insomma io però non vorrei che fosse rimasto fuori dal discorso mentre Kalel ha inquadrato qualcosa io su quella cosa che Kalel ha inquadrato ho visto una firma sì è la firma della pacotto bene dai Kalel ma te sei andato dalla pacotta a farle firmare una roba del genere certo me la pretende proposto lei eh ma Emanuela sì sì ma d'altro ho notato che molto Emanuela è la nostra madre è assoluta bravissima la storia è il contrario io questo non è che ho portato questo da lei ho preso questo apposta mentre mi fiera perché volevo farmi firmare questa cosa da lei ma è mostrabile chiedo sì sì è mostrabile io ringrazio tutti i membri del pub nerd che è stato nerd fino a un certo punto poi ha perso un po' il topic per poi rientrarci disperatamente sul finale però insomma è stato molto bello ringrazio anche il pubblico perché siamo arrivati quasi a 11.000 spettatori ecco quindi grazie di cuore perché è veramente stato un successo clamoroso grazie di cuore di esserci stati dell'affetto e Dario Vergoglia ti mostra e raga eccoci guarda com'è bello la prossima settimana c'è il pub normale quindi non vi preoccupate torna il pub fra una settimana esatta come ogni venerdì io ringrazio Caverna ringrazio Vic ringrazio Luca che oggi era Cherry Chaplin diciamo era un po' commedia slapstick ringrazio Fossa dallo studio di Every Eye ringrazio Rob ringrazio Sara ringrazio Kalel Sara Curolili chiaramente penso la conoscete tutti ma è necessario ripeterlo grazie anche a Chirio per il suo contributo insomma grazie a tutti è stato un piacere un abbraccio e niente ci vediamo il prossimo mese col pub nerd e la prossima settimana con il pub normale se avete confusione non sapete com'è suddiviso il pub cazzi vostri cazzi vostri è scritto dappertutto